Può essere considerato uno dei più grandi giocatori europei degli anni 80-90, uno di quelli che ha segnato la storia del basket continentale come pochi, abbattendo delle barriere per tutti inavvicinabili. Alexander, Sasha Volkov, è stato il primo giocatore dell'ex Unione Sovietica a debuttare in NBA nel 1989, l'anno dopo aver vinto l'oro olimpico a Seul. C'erano molti giocatori che potevano farlo, penso a Sabonis. Io e Marciul Onis avevamo un forte desiderio di provarci ed essere stati i primi è qualcosa che mi riempie di orgoglio. Sono contento della scelta che ho fatto. Presidente onorario della federazione in Ucraina, tra le tante esperienze avute come giocatore, Volkov conserva un posto speciale alla stagione 92-93, quando vesti la maglia della Viola Reggio Calabria. Quella stagione rappresenta la più bella della mia carriera. Il calore della gente, sia quando giocavo a Reggio Calabria, sia in trasferta, è qualcosa che mi porterò sempre dietro. Tornare in Italia per me è come tornare a casa. Un anno fa Volkov inviò una foto al suo amico, Dino Meneghin, in tuta mimetica, con un fucile. La Russia aveva appena invaso l'Ucraina. È stato un periodo durissimo. Nessuno si aspettava l'invasione della Russia. Tutti quelli che avevano un'arma hanno provato a dare una mano. Io avevo un vecchio fucile da caccia e ho provato a proteggere la mia gente. Domani la sua nazionale scenderà in campo contro l'Italia per continuare a sperare nel mondiale.